Oggi è lunedì 27 luglio 2015. Sono stato contattato da una mamma che vive in provincia di Venezia. Questa donna è disperata, ha due figli piccoli, minori, è ancora giovane e vuole lavorare. Non riesce a trovare lavoro? È stata minacciata dalle assistenti sociali che le hanno fatto capire che le portavano via i bimbi se continuava a chiedere aiuti, a chiedere sostegno per la sua situazione. Non lavora, è disperata, disoccupata, abbandonata dal sistema. Sono molto preoccupato dei casi di Raffaella Godi, la mamma che si è tolta la vita, o che meglio, hanno portato a suicidio a Bologna, e del caso di Porto Recanati, la mamma Luana Brugè, che hanno abbandonato in una tenda, nonostante chiedesse aiuto, l'hanno abbandonata con una bimba piccola di 6 anni, bene, ed è morta. Sono molto preoccupato. Qui c'è il suo numero di telefono. Chiamiamola, sosteniamola, chi può aiuti, è disposta a trasferirsi, è disposta a lavorare, è della provincia di Venezia, non posso dire altro. Qui c'è il suo numero, si legge bene. Vi prego, popolo italiano, uniti contro questo regime infame, che abbandona gli italiani, che li fa vivere in una tenda, che li porta a suicidio, aiutiamo questa mamma! Aiutiamo questa mamma contro questi razzisti che pensano solamente ad aiutare gli stranieri. Vi prego, chiamatela, contattatela. Ha bisogno di noi, noi popolo italiano.